Salve a tutti, in questo video vediamo come trovare la seconda parte del tesoro della via del veleno. È qua su un cumulo di pietre, ma dove si trova questo cumulo di pietre? Adesso ve lo mostro sulla mappa. Andiamo qua ad est, a Va Nord Trading Post, e si trova proprio sulla sinistra. Alla sinistra della ferrovia, un pochino più in basso della scritta, qua, su questo rilievo. Il punto è esattamente questo, si vede anche il cumulo di pietre sulla mappa. Quindi impostiamo qua la meta e andiamo con il cavallo. Scendiamo Ed eccolo qua, alla nostra sinistra. Mi raccomando, non è questo il cerchio di pietre, ma è questa piazzoletta qua. Questa qui. Vi faccio anche rivedere sulla mappa dov'è precisamente. Ecco qua. Si vede proprio il cerchio, quindi è proprio qua. Ispezioniamo il punto centrale E troveremo la penultima parte del tesoro e l'ultima mappa. Un saluto. E troveremo la penultima parte del tesoro. E troveremo la penultima parte del tesoro.